Parliamo di Enologica, Enologica che racconta i gusti del consumatore. Enologica intanto diciamo che cos'è? È la più importante manifestazione che si occupa di cibo e di vino dell'Emilia Romagna. Diciamo che è un grande racconto dell'Emilia Romagna ed è un grande laboratorio di quello che sarà l'enogastromia dell'Emilia Romagna. L'anno scorso Rabboni l'ha detto in un modo molto bello alla conferenza stampa, è il crocevia di tutti gli attori, di tutti i protagonisti del mondo del cibo. Quindi i giornalisti, i produttori, i consumatori, i cuochi che sono dei grandi narratori dei territori. Ecco noi quest'anno abbiamo incluso in questo racconto straordinario il mondo cooperativo perché ci siamo accorti che l'impianto di valori che sta dietro al mondo cooperativo è un impianto che corrisponde esattamente a quelle che sono le esigenze del consumatore. Cioè il consumatore vuole, non so, compra i pelati, vuole sapere che sono italiani, vuole sapere che dietro c'è un modello produttivo di un certo tipo e vuole sapere quanto futuro ha in fondo il territorio. Ecco il modello cooperativo ha un legame col territorio che assicura un futuro straordinario alla nostra regione che ha appunto nel modello cooperativo il protagonista assoluto sicuramente a livello quantitativo e oggi anche a livello qualitativo. Il Salone del Vino è del prodotto tipico dell'Emilia Romagna, quindi un invito alla cittadinanza e soprattutto ai cultori del buon mangiare enologica? Diciamo che enologica è una tappa imprescindibile per chi in questa regione si occupa di cibo e di vino. Più che una fiera, come qualcuno delle volte l'ha chiamata, noi siamo un evento complesso dove si può fare un'esperienza straordinaria in modo molto semplice degustando i vini di tutte le cantine dell'Emilia Romagna e assaggiando i prodotti dei grandi artigiani della regione però poi in realtà facendo una serie di esperienze di tutto il calendario di enologica, quindi il teatro dei cuochi, quindi tutto il programma di degustazioni e quello che è il mio preferito che è lo spazio culturale Caravan Serraglio che è un luogo d'incontro, un po' come lo era il Caravan Serraglio per i caravanieri che si riparavano per la notte però in verità si scambiavano cultura, merci, conoscenze, un po' con questo spirito.